Strizzata d'occhio verso l'accompagnatore e ok con le visite mediche da parte di Ante nel suo primo giorno in maglia viola nel suo primo giorno di Fiorentina. Il calciatore una punta appena 19 anni ma già un pedigree di tutto rispetto la trafila di tutte le giovanili nella nazionale croata fino al gol proprio con la prima squadra nell'amichevole del 14 agosto al suo debutto con la nazionale croata e dopo il passato nel NK di Spalato arriva dunque il suo momento all'interno invece della sede viola. Dopo le visite dicevamo il trasferimento all'interno del quartier generale dei Viola in Via Lefanti, le firme, le pratiche burocratiche svolte anche dalla D Sandro Mencucci, l'ok del duo tecnico del direttore sportivo Daniele Pradè e del direttore tecnico Massia e poi una stretta di mano le firme ufficiali. E così Ante Rebic è un giocatore della Fiorentina, un attaccante di prospettiva e soprattutto un attaccante di grande talento. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS